In questo Whoop ho montato la nuova FC 5 in 1 di BetaFPV che è un'alternativa alla loro 4 in 1 che vi ho mostrato nell'Air 65. L'Air 65 è un Whoop che mi è piaciuto molto e che ho recensito qui sul canale vi lascio il video linkato in descrizione però aspettavamo tutti questa FC che oltre ai componenti inclusi nella 4 in 1 aggiunge anche la ricevente Express LRS. La FC l'ho montata su questo Whoop che ha tutti i componenti dell'Air 65 con alcune modifiche per abbassare ancora il peso e siamo su un quad semplicissimo da assemblare che scende sotto i 17 grammi quindi grammezzo secondo me per essere un Whoop e prestazioni davvero di una generazione superiore rispetto a quello a cui ero abituato che erano un Whoop tra i 19 e i 21 grammi. Io sono Mattia e in questo video andiamo a vedere la FC e anche a consigliarvi come assemblarla su questo Whoop che è secondo me la scelta migliore per chi poi vuole andare a fare le gare e quindi avere anche una FC legale perché il problema della 4 in 1 era la potenza della VTX che era troppo alta rispetto ai 25 mili watt dichiarati e con qualche disturbo nelle altre frequenze vicine. Invece ora dobbiamo vedere com'è questa nuova FC perché a quanto pare BetaFPV è riuscita a risolvere i problemi che aveva sulla 4 in 1. Prima di iniziare con la FC nuova andiamo a vedere questo che è l'Air 65 vedete che ha l'AFC triangolare è quello che sto usando adesso e vediamo quanto pesa finito con qualche modifica che ho fatto tra il momento in cui ho pubblicato la recensione ed ora. Vedete che siamo sotto i 17 grammi quindi 17,93 con pochissimi accorgimenti. Ho tolto la protezione dal cavo qui dell'alimentazione e poi ho tolto il termorestringente dai pad dei motori e poc'altro. Ho tolto forse ecco la vite qui dietro e poi il resto ho fissato con un po' di nastro biadesivo. Qua si potrebbe limare qualcosa togliendo il termorestringente dalla ricevente però alla fine penso che questo sia già un peso ottimo per un Wup. Pensate che l'anno scorso il mio Wup pesava questo. 22 grammi e rotti quindi 5 grammi in più e si sentono tutti. La differenza tra questi due Wup in volo è assurda e veramente questo vola quasi quasi come un 3 pollici come risposta mentre questo vola come un Wup cioè certe cose proprio non riuscite a farle. Ora vado a smontare questo Wup in modo da avere la FC dissaldata da tutto per andare a pesarla in confronto a questa che è la nuova FC di BetaFPV la 5 in 1. So già che in teoria questa dovrebbe pesare un periodo di più della 4 in 1 più ricevente se si va ad accorciare i cavi e togliere il termorestringente. La domanda è se pesa di più anche senza fare queste modifiche o comunque capire quali vantaggi si hanno con la 5 in 1 anche a livello di spazi. Quindi ora smonto confrontiamo il peso delle due FC e poi rimonterò lo stesso quad con questa FC e vedremo il peso finale quindi con l'FC nuova 5 in 1. Ho smontato il Wup e ora andiamo a confrontare il peso delle due FC. Questa è l'FC 4 in 1 più ricevente più biadesivo per fissare la ricevente e termorestringente sulla ricevente con i cavi che possono essere ancora accorciati e pesa circa 4 grammi e 7. Se andiamo invece a vedere la nuova FC 5 in 1 a cui ho saldato il cavo di alimentazione e ho messo un po' di stagno sui pad qui di lato per i motori in modo che comunque contiamo anche lo stagno. Se vado a posizionarla arriviamo a 4 e 85 quindi ci sono punto 15 grammi di differenza tra le due FC a favore della 4 in 1 contrariamente a quanto si potrebbe pensare. Sulla 4 in 1 altre modifiche che si possono fare per diminuire il peso non sono tante perché comunque secondo me un po' del peso è il gommino qui davanti o comunque questa parte di FC che è completamente vuota mentre lo spazio sulla ricevente è completamente utilizzato e l'antenna secondo me pesa meno questa in ceramica rispetto al filo qui in metallo anche se credo che questa possa dare qualche vantaggio in range forse non rilevante comunque. Ora vado a rimontare il Wup usando questa FC e vediamo il peso totale del Wup. Una cosa comunque da notare di questa nuova FC è che hanno risolto completamente i problemi di VTX. Ho provato anche ad alimentarla e vedere effettivamente se la VTX spara di più o soprattutto se spara sugli altri canali e questa mi sembra abbastanza precisa. Non ho il misuratore dei watt quindi non so sui watt se è perfetta ma tutti quelli che ho visto che l'hanno misurata hanno trovato che spara sotto i 25 quindi è ok. Mentre per il discorso del andare a coprire gli altri canali guardando dal modulo del mio visore analogico cioè dal rapid fire si può vedere che lo spettro viene occupato solo in una banda quindi non ci sono problemi da quel punto di vista. Devo dire che io ero stato fortunato anche con la 4 in 1 perché anche la mia 4 in 1 non so se spara effettivamente di più di 25 miliwatt però almeno non va a coprire gli altri canali quindi credo che vada anche un po' a fortuna. In realtà ora è stato sistemato anche il problema sulla 4 in 1 e in teoria la seconda batch di FC dovrebbe essere già con la VTX sistemata e che spara comunque la potenza corretta quindi è ancora aperta diciamo la sfida tra le due da capire se la 4 in 1 una volta che vedremo che quelle della seconda batch non hanno problemi di VTX verrà resa di nuovo utilizzabile nei campionati per esempio in IWL questa attualmente non è consentita mentre la 4 in 1 sì perciò c'è da vedere che sviluppi ci sono in quell'ambito. Ora vado a rimontare il VOOP poi vi mostro il VOOP finito con il peso per il resto in realtà la FC è la stessa quindi non c'è moltissimo da dire anche come configurazione si può fare praticamente un 1 a 1 tra l'Air 65 e questa FC. Ho montato il VOOP con la 5 in 1 potete vedere da sotto che riempie tutti quattro gli angoli come prima non ho messo la vite qui dietro e secondo me non serve poi per il resto non ho fatto modifiche ho tenuto i cavi lunghi per i motori che quindi si può diminuire un po' il peso accorciando i cavi e anche mettendo dei cavi più leggeri non ho accorciato il cavo della batteria che potrei accorciare e poi per il resto niente ho messo un pezzettino di biadesivo per tenere un po' l'antenna anche se forse sarebbe meglio una goccia di cola a caldo e il supporto è quello progettato dai team blue eyes per la cam di beta fpb la c03 che comunque secondo me è un'ottima cam per VOOP. L'antenna è proprio la stessa che avevo nell'altro per avere meno variabili possibili ma come vedete ho cambiato il telaio perché già che c'ero volevo mettere questo rosa però li ho pesati i telai e pesavano assolutamente uguale quindi non c'è nessuna variazione da quel punto di vista se andiamo a pesarlo siamo comunque sotto i 17 grammi prima ero 16 e 9 ora siamo a 16 e 96 prima l'ho pesato 16 e 97 non so bene perché cambi un po' il peso tra un momento e l'altro però comunque diciamo la differenza è meno di un decimo di grammo per avere però la fc che è più semplice da montare perché sostanzialmente qua saldati motori e basta e il vup comunque è legale nei campionati perché questa fc non ha problemi di viti ex quindi va bene per chi compra la fc e si assembla quindi il vup usando questa fc e prendendo le parti singole che è l'unica opzione adesso per usare questa fc il prezzo totale del vup è attorno ai 126 dollari usando le viti di plastica che io non ho ma che vorrei mettere con le viti normali sono 120 dollari quindi spendete un 20 dollari in più rispetto al vup già precostruito è il 65 e la scelta tra le due opzioni è semplicemente data dal fatto che se volete fare le gare prendendole a 5 in 1 siete sicuri che la 5 in 1 non ha problemi di viti ex se invece voi non vi interessa fare le gare girate in casa in giardino prendete la 4 in 1 perché la 4 in 1 spara di più quindi in gara è uno svantaggio perché vi squalificano ma se volete in casa vostra avere la viti ex che spara di più non è un problema al massimo vi dura un pelo meno la batteria ma parliamo veramente di cose che entrano nel margine d'errore le eliche che ho usato sono le genfan che sono abbastanza consigliate per questo modello e in pratica tutti i componenti sono quelli appunto del air 65 quindi se non volete fare le gare prendete quello già fatto se volete farle prendete i componenti che vi lascio linkati in descrizione la lista completa per assemblare questo e avrete un quad che vi soddisferà assolutamente ci ho fatto qualche ripo per sentire se c'è una differenza con l'altro ma il whoop si comporta assolutamente in modo identico e anche il range della ricevente che è diversa tra uno e l'altro mi sembra comparabile per quanto riguarda la configurazione è semplice perché si può usare tranquillamente la configurazione dell'air 65 quindi copiarla pari pari la trovate nel sito di beta fpv oppure se avete bisogno scrivetemi e vi mando direttamente quella del mio whoop una cosa che vi consiglio e che mi hanno consigliato quelli che vogliono tanto con i whoop e chi partecipa all'iwl che è il campionato italiano è di disattivare l'air mode ed ho visto veramente una differenza perché quando si sbatte se non avete air mode attivo riuscite a recuperarvi con air mode è un po' più difficile quindi sui whoop è forse meglio disattivarlo per il resto fc approvata trovate tutti i link in descrizione e se dovesse uscire qualche codice sconto lo pubblicherò sul mio canale telegram altra cosa farò qualche video dei miei allenamenti con i whoop e li pubblicherò sul mio instagram oppure sugli short ma in ogni caso seguitemi su instagram e vi lascio il nome del mio account in sovraimpressione perché lì vostro anche quando mi arrivano le cose con le storie riesco a essere un po' più legato diciamo a voi e poi se volete sostenermi come al solito c'è l'account patreon come al solito spero che questo video vi sia stato d'aiuto se vi è stato iscrivetevi al canale lasciate un mi piace cliccate sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video grazie per l'attenzione ciao